e bello ragazzo e benvenuto in questo nuovissimo video ragazzoli oggi siamo qui per tentare una nuova challenge ovvero ad ogni skin corrisponde un'arma ve la spiego molto brevemente io ora andrò a mettere casuale allora ramida per le armi leggendarie poi risi per le armi epiche diva diamantina per le armi rare c'è blu e lo scopro le armi non comuni ovvero le armi verdi andiamo a mettere casuale e aspettatevi facciamo fin di metterlo ok ora mettiamo casuale cosa sia uscito ramida ok ragazzi solo armi legge dare challenge molto difficile intanto vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanella condividere il video con i vostri amici e come sempre lasciare un bellissimo like la potenziamo o se ne troviamo una ce la dobbiamo potenziare noi speriamo di trovarla già a un grado abbastanza alto per non sprecare troppi lingotti ma tanto ne abbiamo 9266 quindi anche la fortuna è come oggi il pino le siamo già il pino il pino però già dorato ragazzo ucchi 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 cerchino lo verrà e perché non d'ho sentito gente si c'è go esibisi abbiamo giocchiato quindi ci facciamo anche le cure ragazzi sapete cosa vi dico? andiamo sulla gru ok ecco qua e togliamo tutto il nostro quando la nostra è morta ma va bene raga raga abbiamo gente davanti? non so come il nome ne sono 2 dove sento qualcosa in headshot io direi che verrò nettamente colpito e affondato ho sentito un po' che c'era oh raga ok ok adesso va bene oh raga la persona c'è finito? non so bene ma da dove raga? oh da là sotto e allora ragazzi cosa? perchè non c'è di tenerlo anche noi oh 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 per ora che andando non siamo neanchei si fono non siamo neanchei Ah, come mirare. Ah, come mirare. Ah, come mirare. Ah, come mirare. Próximo safe, è lontanissimo Però non ci arriveremo Non ci arriveremo Ragazzi ho l'idea che siamo quasi in safe C'è anche un airdrop Non lontana da noi Però non l'animo a prendere Perché non voglio rischiare di morire Ah ragazzi la fiocce no Non la posso prendere Non era dimenticato Una random skin challenge Vabbè la tannica Vabbè perché tanto Quella là non è un'arma Così ragazzi abbiamo visto un XP Verde Salmi safe 22 rimanenti Ragazzoli mi raccomando Like e iscrizione e campanella Che stiamo Per arrivare Ai 30 iscritti Tanto vediamo gente davanti a noi Saranno per l'hardrop Non lo saprò Ragazzi eccolo là Mi abbraccio Eh si sono tutti per Prendevo veloce Vabbè vi ricordo che Stiamo giocando senza merda E' così Prende mi avrei mai giocato In una partita intera Senza merda Merda Bene E' così E' così E' così Ecco qui ragazzi Eliminato Anche questo Questa persona Allora ragazzi cosa ne dite L'hardrop Ovviamente si Ce la prendiamo Però dopo ragazzi Dobbiamo correre immediatamente In su Ok Buone l'impulso Però Si le prendiamo Facciamo veloci Tiriamoci questi medicossoli Ah si prendiamoci i shield E andiamo immediatamente In the safe Raga vedo gente Ma come No 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 Quello di prima No raga Quello di prima E' quello di prima E noi Andiamo a killare Ah Ah perché c'è un altro Oh 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 Oddio Che laserata Che laserata Va bene ragazzi Spero che vi sia giusto Mi raccomando il like Iscrizione e campanella Ci becchiamo alla prossima Bella Ciao